E' presente chiaramente in questa volta nelle vesti non di Assessore regionale di Sindaco di Isola ma nelle vesti di Presidente della società aeroportuale, l'Assessore, il Sindaco. Allora, qui per spiegare le novità ultime che riguardano l'aeroporto, quindi tecnicamente sarà la vicepresidente Stasi a spiegare, e per manifestare che nonostante i tanti presaggi cassanti, auguri di malagurio, scusatevi il gioco di parole, c'è chi ancora crede che in questo territorio alcune battaglie, anche se oggettivamente difficili, quale sono in questo momento nazionale, regionale, provinciale, questa crisi economica che c'è, c'è chi ancora ci crede e vuole combattere fino alla fine alcune battaglie, e mattone sopra mattone, dico io, tassello sopra tassello, fa in modo che questa speranza non solo rimanga viva, ma sempre di più possano aumentare al percentuale raggiungimento degli obiettivi.